Ehi la ciurma, io sono Mazzatest e benvenuti a un ennesimo video di Imperator Rome che inizia con questa guerra che doveva essere una guerra lampo contro Kretak Nosso Mentre invece si sta trasformando in una guerra di logoramento infinita In questo momento si stanno tra l'altro vincendo loro dopo che avevano occupato tutta la loro isola Sono andati a riprendersi pian pianino tutta questa zona qua dopo aver liberato Knosso Perché nessuno dei due sta cercando... Oddio, la difteria? Porca miseria Nessuno dei due sta cercando lo scontro diretto Ok, non stiamo più importando legno Quindi direi importiamo qualcos'altro magari C'è una sconda di family a cui do gli zosibi Allora, c'è una zosibi a cui dare... Ecco, tieni, adesso sei il super mega capo di una nave Cosa è che abbiamo qua? Ok, qua, trade route, prendiamoci... Possiamo prendere di uno del legno da qualche parte, sì Dalla Frigian Revolt Ma preferirei dalla Frigia a Frigia? Questa è Frigia a Frigia? Sì Questa invece è dalla Lucania, vai dalla Lucania, vai E abbiamo dei prigionieri là Sì Dei Charcters Leali Abbiamo solo due punti per delle nuove invenzioni Dai, ce la facciamo prendere Leuterma E Leuterna E Eterna, questa guerra Allora Dove vuole costruire? Heliopolis, scusa un attimo Dove è Heliopolis? Qua Poi dobbiamo mantenere... Ma ce n'è un altro attaccato, perché vuoi mettere un altro fortela? Ehm... Ehm... No Mi sa che non in questo momento Ok, allora Questi sono i mercenari, mannaggia, non c'è più gente Niente, state là un attimo, magari riescono a rifornirsi un po' Se stanno là tranquilli, in pace Che pena Oh, ma adesso li asfalto per bene Dove vanno? A Corion Dove vogliono andare? Qua su o qua giù? Vi prego, prendete questo cavolo di pezzo di terra Ok Ok Cosa mi chiedono? Ehm... No? Camel discipline, ma noi non abbiamo... Camelli Ok, stiamo guadagnando dei soldi I soldini, se non altro Allora, mercenari Per favore, ripigliatevi un poco Dov'è che vanno? Ma così si muovono prima Sciocchi tizi Dai, pigliate questo cavolo di creta Ah, quanta gente c'è dentro sta fortezza? Eh, quasi tutti Purtroppo E questi possono muoversi in caso? No Solo con due passi Vada Hanno cambiato idea, ovviamente Oh, io metterei Marce forzate a tutti Nel dubbio Ah, scusa Se io facessi così e così Sarebbe discorso No, sarebbe incerto No Lascia stare Rinforziamo un po' l'esercito Le truppe qua Perché non si sono ripigliati questi? Questa è meno 28 Quella è meno 35 A finire che continuiamo a fare assedio Della peppetta qua E qua con la Macedonia Intanto perdiamo Se non riusciamo a chiudere Rapidamente questa guerra Porca la miseria Cialadra Quanta gente c'hanno qua? 970 Non possiamo permettercelo Purtroppo Quanti soldi hanno? Non hanno soldi Se noi andiamo a picchiarli Anche se veniamo sconfitti E il problema è che siamo su un'isola Non abbiamo modo di ritirarci Come meno 14 Dai Porca mannaggia Sono più veloci di me Allora, facciamo una cosa Detach siege Ne bastano 5.000 Ok Ok Ok, allora Adesso Uniamo questi due Qua gli diamo L'altro generale Che c'era prima Non so chi fosse Ma Questo Vada Sì, mando questo E questo qua Cosa succede? Ok Probabilmente vinciamo Vada Li pizzichiamo? Forse no Forse sì Forse no Forse sì Pizzicati Ha deciso di fuggire a Knosso E è stata la scelta sbagliata Uh, li abbiamo arati Oh, chi mandiamo alle Olimpiadi? Partimi do 8 Proviamo Ah, questo adesso voglio ampliarmi da dietro E' la scelta sbagliata La scelta sbagliata È stata l'elemento Oh senti ce la facciamo ad asfaltarli Porca di una miseria Adesso dobbiamo andare anche a liberare queste cavolo di isole No grazie Ok allora Senti a me Questa me la darebbe ma adesso Scusi io voglio anche questo La capitale deve essere occupata Va benissimo te la occupo subito Nessun problema guarda Ormai mi prendo tutta l'isola Cioè qua non ci siamo capiti No 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 non ci siamo capiti proprio Ebbene spegnendo i soldi No restate là Chiudiamoli però Dobbiamo prendere il nostro e il nostro lo prenderemo Quel che è giusto è giusto Allora Andiamo a fare delle altre truppe Farei Allora 1 2 3 4 5 E 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Non abbiamo vinto le olimpiadi in agosto Allora Andiamo a prendere un Starting experience P5 Questo momento non è male Questo momento non è male Provence import route Uh Sì Trade route allora Ehm Ce l'abbiamo adesso Sì Iron C'è qualcuno che ci da Iron no Horses però sì Barca Vai Voi due armate Unite insieme Oh Ma Mi è morto il tizio Questa è Scoring the family Eh mettiamo un Questo tizio qua Vabbè Lasciamole là Se qualcuno avrà bisogno Poi E questo non vuole morire Invece 69 anni E sta bene Sana come un pesce Amici miei Vogliamo chiudere il discorso Vogliamo chiudere il discorso Oppure no Voi non avete capito Che dovete darmi tutto Ormai Con i soldi che ci ho speso Questi pezzenti Questi pezzenti Andiamo più veloci No ci sono state Brecce Nei muro No mi spiace Ok Mi spiace Ragazzi Ma adesso Questo è mio È un piccolo L'esercimento Ok La provincia di Creta Ci mettiamo Possiamo scegliere Eccolo no Ok Questo è un buon uomo Allora vediamo un attimo Allora vediamo un attimo la popolazione Come sta Ma voglio dire se Sono felice o meno Sono le auli Si Buono Allora adesso Questi qua Li uniamo insieme E li sciogliamo Questi mercenari Li mandiamo qua Uniamo le navi Ah già non recuperano Allora loro Perché hanno la marcia forzata No scusate Quali è che erano i mercenari Quali è dei due No questi non sono i mercenari Sono gli altri mercenari Oh mannaggia Questi qua sono i mercenari Ok allora scusate Eh mercenari Salite sulle navi Gli altri li mando tra un attimo Ah qua tutta questa gente Ah andate tutti ad Alessandria Ok e poi ne riparliamo Bronson Prisoner Ah non lo hanno voluto rilasciare Oh filosofo Chi mettiamo? Questo uomo Vada Scorafetili Grebus e Penidi Allora facciamo qua Adesso mezziamo Una la mettiamo a Grebus E l'altra la mettiamo a Penade C'è ancora qualcuno? No Allora mettiamo Lui Com'è che è finito Quassù? Cioè scusate Era stato catturato Quello di Knosso Vi ricordate? Ok abbiamo ancora tempo Per intrompere il discorso Allora Andiamo qua Teoricamente dovrei avere La flotta più forte Di quella dei macedoni I macedoni Non dovrebbero essere messi Benissimo Ha un po' come un paura Un po' chi soldi Hanno meno coorti E hanno Solo 13 Navi che sono l'altra Se sono in pausa Non succede niente Ok Split in half E questa la diamo In posto a Quest'uomo vai E' un po' corrotto Ma va bene Fare il suo lavoro Ah si C'è quell'armata Lì in Egitto Che ho appena creato Che Vabbè ma si stanno Ancora tutti ragionando Vada Allora Questi 20.000 Sbarcate qua Ci sono dei forti E' ovvio Quello là è il forte Quante truppe hanno 79.000 Ok E' probabile che arrivino Rinforzi Quindi andiamo a pigliare Quelli Questi non posso Staccarli Perché sono dei Mercenari Quindi devono stare Tutti insieme Glass Va bene Se non ci rimettiamo Niente No Non voglio pagare Così tanto Ah no Così Non accettano Quanto vogliono 700 Mareo Ok Martial advance Bene Eeeh Seage ability Più 5% Oppure abbiamo Monthly wages For characters Meno 10% Guardate per il population growth Dai che è 7% Ce la possiamo fare Allora Eeeh Andate qua Nell'Eubea E direi che per questo episodio Può essere tutto Noi ci vediamo nel prossimo Vi invito a lasciare un mi piace Un commento qua sotto E iscrivervi al canale Se per caso non lo siete già fatto Eeeh Nel prossimo episodio Andremo a concludere Questa fantastica guerra Con la Macedonia Allora E se non altro Nel mentor Ci abbiamo guadagnato Creta Che Eeeh E' una provincia Che dà Del Ferro Per cui finalmente Con questa provincia qua Abbiamo la possibilità Di avere Del ferro Per produrre Le nostre unità Tra l'altro Direi anzi Facciamo una cosa Rapida Prima di dimenticarcene Ah Qui Tra le trade route Facciamo che Importare Del ferro Allora Questa Mi dà National Freeman Output Va Output Va bene Research point No Freeman Freeman Togliamo uno Dei due Freeman Eeeh Mettiamo Un Iron Da Ah Non posso Non posso Prendere Del ferro Da creta Non abbiamo Del surplus Ne abbiamo Soltanto Un'unità Porca miseria E niente Allora nulla Ah nero Ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti